Ciao a tutti al webinar del lunedì, oggi sono da solo perché Riccardo Zago è in vacanza e invece Enrico Lanati è assente in quanto gli è nata una bella bambina e quindi insomma si prende qualche giorno di pausa dato che insomma come potete immaginare ha da fare bene 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 allora oggi quindi un webinar un po' particolare perché appunto sono da solo ne approfitterei per fare una sessione di analisi sui principali strumenti che generalmente seguiamo e vi invito a fare le vostre domande appunto qualora voleste fare qualche analisi specifica insomma chiedetemelo pure che andremo a vedere il grafico assieme molto molto volentieri il grafico dal quale volevo partire è il seguente intanto chiedo se sentite tutti quanti e se vedete il mio schermo dovreste vedere appunto un grafico di lungo periodo dell'indice italiano perfetto Federico perfetto 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 grazie 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 che mi avete avvisato che è tutto ok allora andiamo subito a vedere il grafico qui di fronte a noi si tratta dell'indice italiano e l'indice italiano dove ho applicato un'analisi veramente di lungo lungo termine infatti se andiamo a vedere questo che lo si vede anche un pochettino meglio in questo caso è il grafico mensile ok se andiamo appunto sul grafico settimanale ho tracciato la trend line di lunghissimo termine che appunto seguendo le istruzioni e le regole delle trend line comincia proprio nell'anno 2000 per poi passare sui massimi del 2007 e continuare appunto nel nell'iperurano quindi nello spazio infinito se andiamo a zoomare che cosa vediamo vediamo che la trend line subito successiva è proprio questa che ha origine chiaramente nel 2007 quindi il punto dove passa eh la trend line ok e continua appunto verso il basso passando per il massimo di aprile 2011 massimo confermato appunto da un minimo inferiore rispetto alla chiusura appunto del marzo del 2009 quindi tanti di voi conoscono molto bene le regole delle trend line e in questo caso la rottura al rialzo di questa trend line dà spazio per il raggiungimento della trend line subito precedente ovvero questa trend line di lunghissimo termine dalla quale siamo ancora molto molto distanti però come si stanno comportando i prezzi eh negli ultimi negli ultimi negli ultimi anni beh in pratica dal 2009 in avanti c'è stato tutto questo movimento scusate che sembra essere un movimento di accumulazione appunto e proprio nelle ultime sedute c'è stato un movimento che ha portato i prezzi al di sopra di questa trend line e se andiamo nello specifico a vedere un grafico giornaliero per vedere come i prezzi si stanno muovendo beh abbiamo un movimento davvero molto molto interessante a ridosso di questo livello particolarmente importante infatti vediamo che inizialmente i prezzi sono hanno rotto questo livello questa trend line eh praticamente orizzontale andando a finire al di sopra le candele che stiamo vedendo sono candele giornaliere eh quindi sono tutte chiusure particolarmente importanti dopodiché abbiamo avuto due giorni di ribasso con un ritorno al di sotto di questo livello e dopodiché di nuovo due giornate eh rialziste giovedì e venerdì scorso e oggi una giornata di ritracciamento che però mantiene i prezzi al di sopra di questo livello molto molto importante beh allora io credo che con molte con buone probabilità questo sia un rialzo destinato a durare anche perché l'ultima volta che è partito un movimento impulsivo di questo tipo è stato proprio quasi esattamente un anno fa quindi evidentemente siamo di fronte eh siamo di fronte a un a un a un inizio di ciclo annuale molto molto interessante quindi io eh sono proprio curioso di vedere come si muoveranno i prezzi ma io credo che eh potrebbe tranquillamente continuare questo trend al rialzo sull'indice italiano chiaramente non possiamo aspettarci di vedere eh i prezzi a 37.000 di indice eh nel breve termine perché questo spazio è uno spazio che ci impiegherebbe più o meno due anni a raggiungere ecco quindi ci vuole del tempo per per arrivare qua però io credo appunto che sia un un una tappa eh percorribile io credo che i prezzi fino lì ci possano arrivare eh e appunto come dice Marco che dice pioggia di investimenti in Italia visto che le altre borse sono sui massimi che dici beh certo sicuramente quando un investitore si mette davanti a un grafico o alla alla mappa del mondo per per fare degli investimenti questa è una cosa che sicuramente guarda in Italia nel mercato italiano ci sono delle grandissime eccellenze abbiamo veramente delle ottime aziende io ne ho parlato ampiamente del mercato italiano nel nel mio nel mio libro che si chiama l'arte di vincere in borsa che per chi eh non lo conoscesse eh lo può trovare su su Amazon ecco qua tra l'altro c'è anche una nuova recensione molto bene e quindi vi posso assicurare che eh sul mercato italiano ci sono assolutamente delle eccellenze notevoli questo grafico ci fa ben sperare proprio perché per se vogliamo anche vedere qui c'è questo questa figura che assomiglia molto a un test e spalle non è perfetto ma spesso e volentieri test e spalle quando non sono perfetti funzionano molto molto bene e io credo appunto che questo rimbalzo che scusate che questo rialzo possa assolutamente continuare eh non escludo che per fine duemila e diciotto i prezzi possano essere a trentamila e quindi in questo caso diciamo che a farla da padrona sarà lo stock picking sicuramente con la scelta appunto delle delle azioni eh migliori sulle quali sulle quali puntare e eh insomma e attendere 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 perché qui c'è da avere tanta pazienza però per come si stanno muovendo appunto i prezzi al di sopra di questo livello mi sembra davvero che già nella giornata di oggi ci possa essere una bella opportunità di ingresso anche al rialzo chiaramente sempre con lo stop loss in macchina andiamo a vedere un altro grafico ovvero il grafico dell'euro dollaro perché anche qui siamo arrivati su dei punti veramente molto molto interessanti per quanto riguarda l'analisi di lungo termine qui che cosa abbiamo abbiamo una trend line di lunghissimo perché appunto che parte anche in questo caso dal duemila e otto da luglio duemila e otto e qui veramente con una rapidità incredibile ci siamo avvicinati abbiamo raggiunto questo livello di uno e venticinque un livello particolarmente importante un livello tondo particolarmente importante proprio perché appunto ha raggiunto ha raggiunto dei supporti scusate delle resistenze molto molto importanti perché guardate qui che livelli di prezzo abbiamo raggiunto abbiamo raggiunto dei livelli fantastici stiamo parlando dei minimi del duemila e otto i minimi del duemila e nove minimi del duemila e sei addirittura davvero un livello particolarmente importante che proprio anche a occhio esatto Claudio dice anche un bel livello statico esatto quindi è uno di quei punti di quadratura diciamo dove dove sia i livelli dinamici che i livelli statici si combinano per fare davvero un livello particolarmente importante beh in questo caso devo dire che sicuramente nel breve un'operatività al ribasso è stata vincente devo dire tra l'altro che oggi il sistema di trading automatico deva frame ha intercettato e sfruttato è andato a target con uno short detto questo andiamo a vedere scusate ho un po' di mal di gola andiamo a vedere da qui i prezzi come sono messi perché c'è stata una rottura di questa trend line molto importante perché stiamo parlando di una trend line con origine l'undici di gennaio e quindi stiamo parlando con buone probabilità della svolta del ciclo mensile e in questo caso quindi da oggi in avanti diciamo che sulla forza dell'euro dollaro si può cominciare a impostare una strategia ribassista infatti qui che cosa vediamo beh vediamo molto semplicemente che sono arrivati a farsi vedere sul grafico i massimi e minimi decrescenti quindi attenzione perché dopo mesi 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 di rialzo sull'euro dollaro abbiamo un primo chiaro segnale di inversione di tendenza abbiamo anche la rottura della trend line che conferma appunto questo con questo movimento un raggiungimento di un livello inferiore proprio che sdogana sostanzialmente il movimento ribassista non è detto chiaramente perché potrebbe essere una pausa solamente momentanea proprio perché se andiamo bene a vedere il grafico di euro dollaro ci accorgiamo come potrebbe ancora comunque esserci spazio per un rialzo e poi non dimentichiamoci che le trend line sono fatte per essere rotte e quindi massima attenzione anche nel caso di un'operatività più di breve mettere sempre 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 lo stop loss in macchina sempre 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 ok e in questo caso un buon target potrebbe essere appunto la trend line subito precedente posizionata in area 1 e 21 quindi questa è l'operatività a mio avviso interessante su euro dollaro andiamo a vedere un'altra un'altra in questo caso materia prima molto interessante che come vedete si sta muovendo in maniera molto simile all'euro dollaro stiamo parlando dell'oro anche in questo caso andiamo a fare una bella analisi di lungo e qui vediamo che abbiamo ancora 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 spazio in questo caso anche qua però dobbiamo fare una analisi importante perché se andiamo però sul grafico settimanale guardate che cosa è successo avevamo tracciato questa riga orizzontale verde avevo fatto anche un articolo su investire.biz e avevo detto che se i prezzi avessero chiuso al di sopra di questa linea orizzontale beh anche in questo caso avremmo avuto spazio per salire con l'oro fino a 1450 1460 che dai 1330 punti di adesso diciamo che sarebbe veramente un rialzo molto molto interessante però guardate cosa è successo con una precisione veramente quasi millimetrica i prezzi hanno chiuso al di sotto e questa è un'ulteriore conferma che nelle prossime settimane il prezzo dell'oro potrebbe essere interessato da un trend ribassista che potrebbe addirittura raggiungere il livello di 1300 dollari ok quindi in questo caso qual è la strategia da adottare ma anche qui short sulla forza quindi in questo caso un ritorno in area 1345 1350 beh qui mi farebbe assolutamente propendere per un'operatività short su questo strumento ok molto molto interessante anche qui l'arrivo l'arrivo dei massimi e minimi decrescenti proviamo a vedere un grafico orario per andare a tracciare una trend line per vedere a che punto siamo ecco qua e anche qua esattamente come su euro dollaro vediamo che c'è stata la rottura della trend line in questo caso addirittura stiamo parlando di una trend line che ha origine il 12 di dicembre e quindi potrebbe essere svoltato anche un ciclo molto più lungo del del mensile stiamo magari parlando anche di un ciclo trimestrale o semestrale oro quindi che con buona probabilità nelle prossime settimane raggiungerà il livello di 1300 dollari ok bene 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 allora 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 cosa volete vedere vediamo o dollaro franco giuseppe mi chiede una valuta molto interessante sulla quale io sto facendo una strategia molto chiara e molto semplice usd chf molto interessante questa valuta perché perché ragazzi qui siamo su dei minimi veramente veramente super storici andiamo a vedere un grafico settimanale e siamo su dei minimi veramente veramente interessanti andiamo anche a guardare il giornaliero guardate qua dove i prezzi sono arrivati siamo addirittura ai livelli del 2015 e 15 su uno swing particolarmente importante eccoci qua siamo arrivati su questo livello con i prezzi che hanno rimbalzato quindi in questo caso chiaramente dollaro franco ha un andamento che è speculare a quello di euro dollaro e di conseguenza qui vale la stessa cosa molto interessante dollaro franco perché perché al contrario di euro dollaro dove per mantenerlo in portafoglio noi paghiamo il funding tutte le notti in questo caso su dollaro franco incassiamo ok e quindi qualora si volesse fare un'operazione di lungo termine per esempio a rialzo molto interessante da questi livelli beh tenete presente che tutti i giorni si va a incassare il differenziale di tasso quindi non è tanta roba chiaramente sono veramente pochi pochi euro se parliamo di un contratto standard però è una situazione molto interessante qualora si volesse fare si volesse fare un investimento di lungo termine chiaramente in questo caso si avrebbe anche il carry trade positivo ok bene 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 allora quindi sì giuseppe assolutamente opportunità al rialzo c'è stato questo forte movimento che ha portato i prezzi davvero molto molto in basso insomma molto interessante siamo proprio su un livello molto particolare perché se andiamo a stringere il grafico vediamo appunto che siamo sul livello che ha svolto il suo compito di supporto quando i prezzi dell'euro franco sono crollati sono risaliti e da lì appunto hanno rimbalzato proprio nell'area nella zona dove siamo adesso ok bene 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 allora andiamo adesso a vedere eccolo qua una visione di lungo termine in questo caso vediamo appunto come i prezzi abbiano rimbalzato proprio lì allora andiamo a vedere una cosa molto interessante è ethereum anche se non c'entra con i mercati tradizionali ma è molto molto interessante perché questa criptovaluta sta veramente tenendo botta e ha di nuovo superato dei livelli particolarmente interessanti ovvero il livello di 1150 guardate bene come si è mosso il prezzo trend rialzista i prezzi a un certo punto crollano e scendono sotto questo livello i prezzi tornano a salire rimbalzano nuovamente sul livello di 1150 e adesso guardate dove siamo siamo tornati al di sopra beh le probabilità che ethereum ha nel giro di breve possa davvero tornare a fare i massimi storici sono molto molto alte ok allora ripple mi chiede fabio andiamo a vederla subito ripple perché non non la seguo io dal punto di vista grafico ma lo possiamo andare a vedere vediamo se abbiamo lo storico andiamo a vedere abbiamo troppo poco storico su questi grafici e non io ho investito in ripple come in tante altre criptovalute ma per il lungo termine e quindi al momento non non faccio trading su questo su queste criptovalute così piccoline cioè piccoline scusate così nuove dal punto di vista trading tra l'altro vedevo proprio in questo weekend con con marco di vita che abbiamo lavorato proprio anche a dei settaggi per il bitcoin e devo dire che è ancora difficile poter utilizzare il bitcoin per un trading fatto per bene ma non dato che comunque gli spread sono ancora ampi sono molto ballerini perché a volte cambiano quindi insomma bisogna veramente fare molta molta attenzione interessante ho fatto un articolo proprio su bitcoin invece oggi perché la trend line che sorregge il trend di lungo termine continua a reggere in questo caso e nonostante i prezzi sono ancora lontani dai massimi perché siamo in questo momento a un meno 45 per cento dai massimi quindi ancora una bella botta a Mirko mi dice che ha comprato il bitcoin cash con la tecnica dell'RSI ecco eh quello è sicuramente un'ottima tecnica per per poter fare delle delle operazioni di trading ecco nel caso del bitcoin abbiamo una situazione davvero interessante perché il trend di lungo termine viene mantenuto ok lo vediamo qua i prezzi continuano a rimanere al di sopra di questa trend line e sostanzialmente nel breve abbiamo la rottura della trend line di breve termine questa blu e attenzione attenzione guardate qui cosa sta succedendo praticamente il prezzo sta accumulando con più rimbalzi proprio nella zona del punto di rottura quindi nel breve potremmo tranquillamente vedere il bitcoin di nuovo nella parte alta di questa trend line ok quindi davvero una situazione molto 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 interessante eh Fabio mi chiede se credo nel progetto di Marco di vita assolutamente ci sta dando tantissime soddisfazioni io fino a poco tempo fa pochi mesi fa ero molto scettico sul trading automatico devo dire che mi sono ricreduto perché ci sta dando veramente tante soddisfazioni eh un esempio proprio interessante è l'oro vi faccio vedere l'oro allora andiamo sul grafico orario allora vi faccio vedere andiamo nella sezione trading automatico andiamo a prendere l'ultima tabella disponibile e vediamo che l'oro ha su un grafico a un'ora a dei settaggi 95 128 di frame 1 e frame 2 quindi andiamo qui andiamo a cancellare un po' di linee questo è il gold esatto andiamo a cancellare un po' di linee andiamo a mettere il grafico a un'ora l'ho già messo e a questo punto scusate a questo punto andiamo ad inserire il deva frame mettendo i parametri della tabella che sono appunto 95 128 eccolo qua 95 128 guardate che bel rialzo che per esempio sul gold è stato intercettato il deva frame funziona che va long quando diventa verde ed è andato a target proprio pochi giorni fa è andato a target proprio qua sui massimi ok come ha fatto andare a target proprio lì sui massimi ma è semplicemente questo il deva frame andando nel passato e cercando quelle che sono le ottimizzazioni migliori cosa cosa fa molto semplicemente a livello statistico calcola quello che è il punto ideale per chiudere il trade e in questo caso abbiamo fatto l'analisi prima sull'oro beh abbiamo visto sostanzialmente che molto probabilmente è cominciato un trend ribassista quindi il calcolo statistico fatto su anni di grafico ha permesso al sistema di trovare un livello dove effettivamente il gold ha terminato almeno per ora il suo appunto la sua corsa c'è luciano che mi fa una domanda molto interessante mi dice ciao luca per piacere parlaci un po della tua visione della leva e sui nuovi emendamenti dell'esma allora luciano io penso che l'esma sono un po controcorrente io in quello che penso però credo che l'esma abbia ragione a fare quello che sta facendo perché perché il mercato del forex è diventato un mercato assolutamente un po fuori controllo cosa significa? Significa che negli anni cosa è successo? allora prima di tutto cos'è l'esma? l'esma è un ente europeo che regola i mercati finanziari di che cosa evidentemente si è accorto l'esma? si è accorto che la gente, i cittadini europei hanno perso tanti soldi con il forex con il forex e con i cfd e comunque tutti questi strumenti ai quali si ha accesso veramente facilmente ma che come ben sapete possono rappresentare un rischio e tante persone hanno perso davvero tanti soldi quindi quando si sente adesso su facebook tutti che si lamentano della decisione dell'esma ma l'esma in verità sta tutelando i cittadini europei che dovrebbero essere contenti di essere tutelati perché? Perché tantissime persone hanno bruciato soldi hanno perso capitali con appunto questo accesso veramente troppo facile alla leva finanziaria quindi se il problema è che con un conto da 1000 euro non possiamo più fare i lotti grossi del forex ragazzi è una cavolata questa perché le autorità sanno benissimo quello che stanno facendo chi dice che le autorità non capiscono niente sono stupide probabilmente è stupido lui perché se avesse avuto a che fare come noi abbiamo avuto a che fare con le autorità capisce che le autorità sanno esattamente quello che stanno facendo e sanno esattamente qual è il problema sui mercati ovvero la leva finanziaria tenete presente che chi fa trading seriamente e lo fa per lavorare non verrà afflitto da questa cosa perché? Perché chi fa trading seriamente non utilizza una leva così ampia io lo dico sempre quando faccio i miei corsi, quando faccio le coaching la leva, spero che non ci siano tante donne oggi presenti ma è come la lunghezza del pene se uno volesse un pene grosso il doppio di quello che ha già se potesse avercelo dovrebbe ritenersi fortunato ma nessuno vorrebbe un pene cento volte più grosso quello che ha ok? al massimo due, tre volte i particolarmente sfortunati magari quattro volte ok? ma andare oltre è comunque troppo è comunque esagerato la stessa cosa vale per la leva quindi chi si approccia i mercati finanziari seriamente con disciplina e vuole fare non un'attività di scommesse o di gambling ma un'attività di trading seria di fatto non verrà afflitto da questa cosa ok? perché? perché per fare trading in maniera seria ci vogliono i soldi tanti di voi possono essere magari testimoni del fatto che chi parla con me è sempre stato sconsigliato di fare trading con cifre veramente piccole io dico tutti ragazzi l'ideale è fare trading in partenza con circa 10.000 euro chiaramente non tutti hanno a disposizione questa cifra quindi si può partire anche con meno ma fare trading con meno di 5.000 euro a mio avviso non ha proprio senso proprio perché non si può con delle cifre troppo basse fare un lavoro sensato cioè è come se un pulmista un guidatore di pullman fosse obbligato a guidare sempre a 150 all'ora eh ragazzi non può ci sono solo pochi momenti in cui un pullman può andare a 150 all'ora pensate voi se questo guidatore di pullman potrebbe essere potrebbe guidare sempre dovesse guidare sempre a 150 all'ora e cosa succederebbe nel momento in cui dall'autostrada dovesse entrare in centro città succede un disastro esattamente quello che succede alle persone che utilizzano la leva 100 la leva 200 la leva 300 e abbiamo addirittura punte di persone che utilizzano la leva 400 ma quando uno arriva a utilizzare la leva 400 è già morto e sepolto perché è troppo pericoloso ok sono rarissimi i casi di persone io sinceramente credo di non averne neanche mai viste quindi Federico che dice che è pienamente d'accordo con me dice che la leva 1 a 30 è la leva giusta è la giusta misura per limitare chi il trading lo prende come una scommessa esatto ragazzi perché tenete presente che noi non ci dobbiamo dimenticare probabilmente voi siete tutte persone di senno ma c'è gente che si ammala anche c'è gente che si rovina veramente la vita con il trading è un qualcosa che fa male cioè ogni tanto c'è qualcuno che ne perde il controllo e si lascia controllare dal trading esattamente come le scommesse quindi il mio parere è il seguente l'ESMA ha fatto benissimo a fare questa proposta credo che verrà accettata da tutti i paesi comunitari e semplicemente è una norma che verrà fatta per tutelare i cittadini c'è Max che mi dice meglio essere liberi di decidere se utilizzare la leva oppure no piuttosto che avere i limiti imposti dall'alto ma guarda Max dovresti vivere in un mondo dove regna l'anarchia perché se non sei d'accordo con la decisione dell'ESMA non dovresti essere neanche d'accordo con la decisione delle autostrade di mettere un limite di velocità capito la verità è che ci vuole buonsenso perché ahimè probabilmente tu hai il raziocinio per poter decidere in autonomia e decidere magari che il tuo conto da 1000 euro te lo vuoi e te lo puoi sputtanare ma ci sono persone che poi creano problemi alla comunità e di conseguenza gli stati purtroppo tutti vedono male il ruolo degli stati però io credo che l'Europa da questo punto di vista stia facendo un ottimo lavoro e dico la verità tutti quelli che si lamentano secondo me non hanno ben chiaro che cosa sia l'Europa che cosa serva e per che cosa è stata fatta questa legge allora Claudio dice Inghilterra e Stati Uniti forse sarebbero contrario a una decisione del genere ma guarda forse l'Inghilterra Claudio ha ragione ma gli Stati Uniti non credo proprio anzi tenete presente che per esempio negli Stati Uniti per legge sono vietate le posizioni in edging cosa vuol dire? che se voi siete long per esempio con un lotto di euro-dollaro in America è vietato i broker non possono farvi mettere nello stesso momento contemporaneamente short di un lotto perché? perché se voi siete sia long che short con lo stesso quantitativo di fatto è come se non avete nessuna posizione ma pagate i costi di finanziamento ecco tenete presente che in America è stato è stato vietato appunto l'edging tant'è che la metatrader ha fatto uscire la metatrader 5 non perché la metatrader 5 è meglio della metatrader 4 no semplicemente perché la metatrader 5 non permette l'edging ok? quindi tenete presente che l'America uno dei paesi più liberali al mondo comunque tutela i propri cittadini da questo punto di vista e vi assicuro vi assicuro che la decisione o comunque la proposta dell'ESMA è una proposta che va nella direzione di tutelare il cittadino e tenete presente che tutte le persone che io ho visto fare soldi costantemente con il trading non sono mai neanche arrivati lontanamente ad utilizzare una leva 30 mai mai ragazzi mai tenete presente che quando comprate una casa vi fanno utilizzare una leva 5 ok? quindi perché almeno in Svizzera funziona così se voi un attimo che apro un paint così facciamo due disegni quando comprate casa e comprare casa è molto meno rischioso di fare trading online vi fanno usare una leva 5 perché? perché se voi volete comprare una casa da 100.000 euro ok? 100.000 esatto sostanzialmente la banca vi chiede di mettere almeno un 20% ok? quindi vi dice metti 20.000 ok? se voi fate 100.000 diviso 20.000 uguale 5 molto semplice 2 4 6 8 10 questa la leva 5 è sostanzialmente il massimo consentito per comprare una casa spiegatemi perché nel trading è sempre stato è consentito tuttora fare trading con una leva 1 400 e non ha senso è un'attività molto più rischiosa dell'investimento in immobili ma è possibile farla con molti molti più soldi indebitandosi e quindi capite che non è che la leva viene tolta viene semplicemente verrà semplicemente a mio avviso ridimensionata portandola ad un livello di 30 ok? ecco Maurizio mi dice l'edging è una brutta bestia e mi sa che conviene solo ai gestori per taroccare l'equity ma guarda io non ci vedo del complottismo semplicemente e non serve neanche per taroccare l'equity perché semplicemente se sei long e short molto semplicemente non hai quella posizione è così è una questione i broker non sono proprio degli stinchi di santo e se trovano una persona che è sia long che short e quindi non ha del rischio ma tutti i giorni gli pelano via il funding a me è capitato di recente proprio stavo dando supporto a una persona per inserire per installare il devaframe cazzarola mi sono accorto che questa persona aveva 10 contratti di euro dollaro long e 10 contratti di euro dollaro short e tutti i giorni pagava qualcosa come 70 euro di funding per tenere una posizione che di fatto non esisteva ok Alessio dice ciò che mi preoccupa sono i margini aumenterebbero a dismisura e beh Alessio margini e leva sono comunque due concetti che vanno a braccetto perché se hai una richiesta di margine maggiore chiaramente hai una leva inferiore quindi è molto 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 semplice la questione margini richiesti alti leva che scende margini richiesti bassi leva che sale se tu devi mettere meno soldi per fare la stessa operazione chiaramente vuol dire che ti puoi indebitare di più quindi la questione del margine è strettamente collegata ragazzi io direi che dico la verità questa sera ho una partita di calcetto anche se io non gioco a calcetto ma un mio caro amico qui in svizzera precisamente prima di bellinzona giubiasco ha aperto dei campi da calcetto e questa sera facciamo partita tra traders con pizza birra e rutto libero quindi guardo il Dow che me lo sta chiedendo francesca ecco faremo un webinar apposta su questa questione dato che interessa a tanti quindi il prossimo webinar del lunedì a questo punto lo dedichiamo a questa questione allora Dow Jones Dow Jones ragazzi questo sale non lo stesso eh Luciano dice tempistiche dell'ESMA io credo che entro giugno tutto questo sarà ufficializzato i broker già si stanno muovendo comunque vedremo bene in un webinar dedicato il Dow Jones sale ragazzi non ha intenzione di smettere la politica le politiche di Trump stanno funzionando alla grande e quindi il mercato sale non ce n'è c'è poco c'è poco da fare prima o poi verrà giù ma non sappiamo quando il movimento c'è da dire che sta cominciando a diventare veramente parabolico veramente veramente parabolico e comincia a far paura perché guardate guardate che è impennata quando i mercati salgono così fanno veramente veramente paura bene ragazzi io vi saluto qui eh vi ricordo una cosa importante il giorno 3 febbraio che è sabato ci vediamo a Milano per il fintech e robo advisory incontrano il trading online ok una giornata dedicata al trading automatico molto molto interessante perché staremo tutto il giorno insieme se non l'avete fatto ancora iscrivetevi e saremo in una bella in un bel albergo perché saremo a Lilton di Milano in via Galvani 12 quindi veramente due passi dal dalla stazione centrale io vi aspetto saremo io Enrico Lanati Marco Di Vita e ci sarà anche il il programmatore Michele Bogliardi che è quello che ha programmato l'autodevaframe e appunto ci spiegherà qualcosa della programmazione in pro real time io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani su investire.biz grazie a tutti ciao 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 Grazie a tutti.